Ancora atleti seccensi, protagonisti nelle varie gare podistiche del circuito regionale. Si è svolta ieri infatti la ventunesima edizione del trofeo Garibaldino, che si è disputato a Marsala su un circuito interamente sterrato di circa 6 km. La gara, che è stata vinta da Giovanni Canino del CUS Palermo, ha visto in competizione un solo seccense. Si tratta di Calogero Lauretta, della Sciacca Running, che ha tagliato il traguardo al tredicesimo posto nella sua categoria di appartenenza, con il tempo di 35 minuti e 2 secondi. Prossimi appuntamenti, mercoledì 8 dicembre, con il trofeo podistico salvo d'acquisto di Palermo e la contemporanea ultima prova del Vempri regionale che si svolgerà a Mascaluccia, nel Catanese. E passiamo alla pallavolo. Continua la marcia del Volley Club Sciacca, che ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nel campionato di Serie C maschile Girone A. A farne le spese stavolta il Donorione Palermo, superato in casa alla Sicilia Sport per 3-7-0. Questi parziali 25-16, 30-28 e 25-10, con un po' di sofferenza registrata soltanto nel corso del secondo set. La squadra del coach Enzo Graffeo è prima in classifica a pari punti e a pari settivinti con il Terrasini. Buona la prestazione offerta dai padroni di casa, che adesso si prepareranno proprio per lo scontro diretto contro i palermitani. Nel campionato di Serie D femminile Girone A, invece, netta sconfitta per la squadra femminile del Volley Club Sciacca, battuta per 3-7-0 sul campo del Cefalù. Ragazze seccensi che comunque si sono battute bene, come dimostrano pure i parziali finali, che si sono chiusi sul 25-18, 25-18 e 25-19 per le palermitane. Prossima gara, quella casalinga contro il Raimondo Lanza Trabbia. Per le seccensi tre punti in classifica e l'utilizzo di giovani atleti locali molto interessanti.